Musica Mister una bella vittoria come avevamo comentato anche la scorsa settimana serviva questa continuità e due risultati utili consecutivi sono quelli che ci hanno permesso di cominciare con il piede giusto questa stagione certo non una partita bellissima soprattutto nel secondo tempo forse è qualcosa in più su cui bisogna continuare a lavorare sul mantenere la concentrazione nella seconda frazione di gioco perché la prima è quella che effettivamente viene giocata bene sono più ordinati i ragazzi in campo anche in questo caso nel primo tempo meno rispetto alla scorsa partita Sì è vero sembra quasi che una volta magari acquisito il risultato infatti sul 3 a 0 ci siamo abbassati sembriamo accontentarci quindi dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista perché proprio lì in quel momento dove puoi iniziare a gestire meglio la palla magari ti abbassi ti accontenti non hai fame ma invece dobbiamo stare concentrati fino all'ultimo minuto e portare a casa la partita nel migliore dei modi in questo dobbiamo migliorare Sì cerchiamo di trovare sempre il pelo nell'uomo ovviamente ma godiamoci comunque questa vittoria importante con quattro golle Sì vittoria importante contro una squadra che comunque ha dato filo da torcere era importante le dicevamo la volta scorsa dare continuità oggi arriva questo bel risultato per cui ce lo teniamo stretto ma dobbiamo avere fame Un altro gol simbolo di questo tuo miglioramento continuo A chi vogliamo dedicarlo questa volta? Eh Matarrasso! Grande capitano!